Jin Kazama, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina. È importante che tu torni all'origine. Jin, o maiには o maiだけがなせることがある. 君はもう一人じゃない.我々にも花を持たせてくれた Mari. ... ... ... ... ... ... ... ... Sì Sì, non è vero. Sì, Sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti